Oggi il mio compito è un po' illustrarvi la campagna Riprendiamoci il Comune. Da dove nasce questa campagna? Nasce da un'idea di fondo, direi confermata dalle crisi plurime di questo modello economico e sociale. Pensiamo alla crisi climatica, pensiamo alla pandemia, pensiamo all'emergenza sociale. L'idea di fondo è quella di immaginare che un altro modello sociale, ecologico e relazionale è possibile solo a partire dai comuni e dalle comunità territoriali. E allora riprendiamoci il Comune ha un doppio significato, vuol dire riprendersi quello che è di tutti, quello che a tutti appartiene, quello che fa di voi una comunità e non una somma di individui, ovvero i beni comuni, i beni comuni naturali e i beni comuni sociali. Ma riprendiamoci il Comune significa anche riprendiamoci gli enti locali, cioè i luoghi della democrazia di prossimità, i luoghi dove è possibile la partecipazione diretta delle comunità locali alla definizione delle scelte che li riguardano. Vero è che i comuni devono essere il fulcro di un altro modello sociale, ecologico e relazionale, vero è anche che i comuni sono stati profondamente trasformati in questi ultimi trent'anni di politiche liberiste. Tra l'altro c'è un elemento fondamentale da tenere in considerazione, le politiche liberiste di austerità sono state promosse e applicate con l'idea che dovessimo affrontare il tema dei temi, il più grande dei problemi, cioè il debito pubblico, e tuttavia c'è un elemento quasi paradossale. Tutte le politiche liberiste di austerità sono state scaricate sugli enti locali e sui comuni quando in realtà i comuni contribuiscono alla creazione del debito pubblico nazionale nella misura dell'1,5%. Allora qui sorge una domanda spontanea. Il problema era il debito pubblico e tutto andava sacrificato a quello o il debito pubblico è stato il grande alibi per poter ridurre la capacità di azione dei comuni, le risorse ai comuni stessi e quindi costringerli a esternalizzare, a privatizzare i servizi, a mettere sul mercato i beni comuni. Noi crediamo che la risposta sia questa seconda e cioè che l'insieme di politiche liberiste di austerità applicate sui comuni, in particolare sui comuni, avessero l'obiettivo di costringerli a mettere sul mercato i beni comuni naturali, i servizi pubblici, trasformando così gli enti locali da luoghi la cui funzione pubblica e sociale è dirimente in enti il cui unico compito è quello di facilitare la penetrazione dei grandi interessi finanziari dentro le comunità territoriali. Vi do un altro dato per darvi l'idea dell'espropriazione che è avvenuta rispetto ai comuni in questi anni, se nel nel 2010 diciamo nel periodo 2010-2018 le imposte locali cioè le tasse quindi applicate ai comuni sono aumentate per complessivi 7,8 miliardi bene nel 2018 nonostante questo aumento di 7,8 miliardi le risorse complessive in mano ai comuni erano di 6,4 miliardi in meno di quelle che possedevano nel 2010. Quindi noi abbiamo pagato imposte agli enti locali perché garantissero servizio, perché espandessero i servizi offerti e di fatto questi enti locali non hanno potuto usufruire di quell'aumento di 7,8 miliardi ma si sono ritrovati dopo un decennio con addirittura 6 miliardi in meno di quello che avevano in precedenza e cioè sono state drenate qualcosa come circa 15 miliardi sull'altare della stabilità dei conti da presentare come compiti fatti a casa all'Unione Europea. E naturalmente questo tipo di politiche sono state portate avanti innanzitutto attraverso il patto di stabilità e il pareggio di bilancio finanziario. Il patto di stabilità nella sua prima fase ha colpito l'occupazione, cioè sono stati ridotti drasticamente i lavoratori degli enti locali, del pubblico in generale ma degli enti locali in particolare, attraverso la politica per cui mentre prima ad ogni persona che andava in pensione c'era una sostituzione, ad un certo punto si è passati a sostituire una persona ogni due che andavano in pensione, poi una ogni cinque fino al blocco del turnover. Questo ovviamente ha provocato un depauperamento del lavoro pubblico al punto che oggi l'età media dei lavoratori degli enti locali è di circa 55 anni e 4 mesi. Immaginatevi cosa vuol dire in un momento in cui si parla di innovazione, digitalizzazione, di ammodernamento delle amministrazioni, avere una popolazione di lavoratori e lavoratrici che ha un'età media di 55 anni e 4 mesi. Nella seconda fase il patto di stabilità ha bloccato tutte le possibilità di investimento degli enti locali fino ad azzerarle e nella terza fase il patto di stabilità ha addirittura intervenuto sulla spesa corrente riducendo le capacità di spesa dei comuni. Quindi mentre i comuni sono chiamati dalle crisi in corso, dall'emergenza in corso, ma dal loro ruolo storico riconosciuto, ha sempre maggiori compiti per provare a immaginare un altro modello sociale, ecologico e relazionale, i comuni si trovano con l'acqua alla gola. E allora noi abbiamo pensato che fosse importante intervenire non più solo, ed è necessario farlo, il singolo diritto, il singolo servizio, la singola battaglia, la singola vertenza, ma provare a intervenire sulle contraddizioni sistemiche che fanno sì che oggi anche sindaci che volessero si ritrovano ad avere pochissimi margini di azione perché le norme che governano il bilancio dei comuni e in generale la programmazione e l'attività degli stessi non consentono margini di manovra agli amministratori locali. La campagna Riprendiamoci il Comune si baserà su due proposte di legge di iniziativa popolare, la prima per la riforma della finanza locale e la seconda per la socializzazione della Cassa Depositi e Prestiti. Con la prima cosa diciamo? Superiamo il principio del pareggio di bilancio finanziario, ovviamente mantenendo il principio dell'equilibrio finanziario che però può essere raggiunto in un arco temporale più ampio che non l'attuale pareggio di bilancio finanziario. Noi immaginiamo che l'equilibrio finanziario abbia una temporalità di tre anni e possa avere anche delle deroghe se ci sono particolari accadimenti, pensiamo per esempio alla pandemia, pensiamo al disesto idrogeologico, pensiamo a una particolare fase di recessione economica eccetera e immaginiamo dentro la costruzione della riforma in fianza locale di inserire al posto del pareggio di bilancio finanziario il pareggio di bilancio sociale, il pareggio di bilancio ecologico e il pareggio di bilancio di genere. Cos'è il pareggio di bilancio sociale? Significa che un comune deve fare un'indagine per definire quante sono le persone all'interno della propria comunità territoriale a cui non sono ancora garantiti le necessità prioritarie, che non hanno accesso ai servizi, che vedono i propri bisogni soddisfatti e definire all'interno della programmazione quante risorse e quali iniziative mette in campo per raggiungere progressivamente il pareggio di bilancio sociale, cioè la garanzia per tutti gli abitanti di quel territorio di avere accesso ai servizi e di avere garantite le priorità, i diritti fondamentali. Il pareggio di bilancio ecologico significa che una comune o una comunità locale devono fare un'indagine su qual è l'impatto ambientale del funzionamento di quel territorio, di quella comunità e stabilire quante risorse e quali azioni mettono in campo per raggiungere progressivamente il pareggio di bilancio ecologico, cioè l'impatto ambientale zero del funzionamento di quel territorio e di quella comunità. Il pareggio di bilancio di genere significa fare un'indagine su quanto il funzionamento di quella comunità è distante da una città, un territorio dal punto di vista delle donne e decidere quante risorse e quante energie si mettono in campo. La costruzione del bilancio deve essere fatta con la partecipazione dei cittadini. Nella nostra proposta di legge noi prevediamo che la destinazione del 20% delle risorse a disposizione degli enti locali debba essere definita attraverso percorsi partecipativi che possono essere attivati dagli enti locali o nel caso non lo facessero possono essere anche autoattivate dalla comunità territoriali attraverso la richiesta dello 0,01% degli elettori di un determinato territorio. Quindi si tratta da una parte di ridare ai comuni degli obiettivi che vanno oltre la semplice e compulsiva stabilità dei conti, ma che mettono i comuni all'interno di un cambiamento che vede nella questione sociale, nella questione ecologica, nella questione di genere, la loro funzione prioritaria e a fianco a questo la necessità del coinvolgimento delle comunità territoriali attraverso la partecipazione diretta alle scelte fondamentali che riguardano un territorio. La seconda proposta di legge iniziativa popolare riguarda la socializzazione di cassa depositi e prestiti. È complementare alla prima perché se con la prima proposta ridefiniamo il ruolo dei comuni e degli enti locali con la seconda diciamo dove vanno recuperate le risorse. Che cos'è cassa depositi e prestiti? Brevemente nasce nel 1850 e per oltre 140 anni, cioè fino al 1990, ha esercitato un ruolo fondamentale per gli enti pubblici e le comunità locali. Cassa depositi e prestiti raccoglie il risparmio postale dei cittadini, quindi diciamo i risparmi che i cittadini depositano sui libretti di risparmio postale o nei buoni fruttiferi postali viene raccolto da cassa depositi e prestiti che per 140 anni aveva un solo compito, da una parte tutelare questo risparmio depositato ai cittadini, dall'altra utilizzare questa enorme massa di denaro per finanziare a tassi agevolati gli investimenti degli enti locali. Se nel nostro paese si può dire che c'è stata una modernizzazione o anche una sorta di stato sociale è grazie a questo semplice meccanismo che ci ha permesso di costruire gli acquedotti, fare le opere infrastrutturali, costruire le scuole, gli ospedali, parchi eccetera eccetera. Che cosa succede nel 1990? Siamo nella stagione dell'affermazione delle politiche neoliberiste, parte la stagione delle privatizzazioni e viene privatizzato tutto il sistema bancario e finanziario. Le banche privatizzate spingono sui governi perché si sentono escluse da un enorme mercato di investimenti che è quello degli enti locali, perché fino ad allora gli enti locali potevano finanziarsi solo ed esclusivamente attraverso cassa depositi e prestiti. E così nel 1990 l'allora governo Amato inizialmente consente agli enti locali di finanziarsi non più solo attraverso cassa depositi e prestiti ma anche attraverso il sistema bancario e finanziario. Ma poiché cassa depositi e prestiti faceva mutui a tassi agevolati mentre le banche ovviamente utilizzavano tassi di mercato è chiaro che i comuni continuavano a rivolgersi a cassa depositi e prestiti. Quindi la spinta alle privatizzazioni arriva al 2003 quando l'allora governo Berlusconi, ministro dell'economia Tremonti, trasforma cassa depositi e prestiti in una società per azioni. Fa entrare nel capitale sociale le fondazioni bancarie che erano i maggiori azionisti delle banche privatizzate e da quel momento cambia completamente lo scenario e cassa depositi e prestiti diventa tutt'altro. Si comporta nei confronti dei comuni come una qualsiasi banca quindi presta tassi di mercato. Oggi i comuni sono gravati da mutui ventennali, trentennali che hanno tassi di interesse intorno al 6-7% quindi che sfiorano l'usura e oltretutto cassa depositi e prestiti si propone di affiancare i comuni in particolare in due direzioni. Uno per favorire la dismissione del patrimonio pubblico, la cosiddetta valorizzazione del patrimonio degli enti locali e l'altro è il fatto di proporsi come leva finanziaria per tutti i processi di privatizzazione dei servizi pubblici fatti attraverso la costruzione di multi utility quindi il fatto di associare più servizi spesso collocando queste multi utility in borsa ebbene cassa depositi e prestiti fa da leva finanziaria a questo tipo di processi. Siamo quindi al paradosso per cui il risparmio che i cittadini depositano nelle poste e in cassa depositi e prestiti viene utilizzato per privatizzare i servizi pubblici delle comunità locali o di smettere il patrimonio pubblico delle stesse comunità. Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo che cassa depositi e prestiti torni al proprio ruolo originario ovviamente rinnovato perché il tempo è cambiato e che quindi torni ad essere intanto un ente di diritto pubblico un ente di diritto pubblico decentrato territorialmente e che finanzi a tassi agevolati ovviamente oltre a tutelare il risparmio dei cittadini, finanzi a tassi agevolati gli investimenti degli enti locali mettendo nella proposta di legge una scala di priorità degli investimenti che sono ovviamente tutti gli investimenti legati ad affrontare da una parte la crisi climatica quindi la riconversione produttiva delle attività economiche, il riassetto idrogeologico del territorio, la realizzazione delle comunità energetiche, il rifacimento degli acquedotti, dall'altra tutte le iniziative per rispondere all'emergenza sociale e quindi alla garanzia di mettere in campo servizi a cui tutti i cittadini di un determinato territorio possano accedere. Anche qui prevediamo forme di partecipazione nel senso che diventa elemento prioritario per l'accesso ai finanziamenti cassa depositi e prestiti il fatto che i comuni presentino progetti che sono l'esito di processi partecipativi da parte delle comunità territoriali. Quindi l'insieme delle due proposte di legge da una parte qual è il nuovo ruolo dei comuni e dall'altra dove si trovano le risorse per poterlo rendere effettivo permettono di intervenire su i nodi sistemici che oggi impediscono agli enti locali di esercitare la propria funzione e impediscono alle comunità territoriali di sentirsi comunità e di uscire da una logica in cui invece l'usufrutto dei servizi è totalmente mercantilizzato e determinato dalle capacità economiche delle persone. La campagna riprendiamoci il comune partirà a metà gennaio concretamente nel senso che servono sei mesi per raccogliere 50.000 firme quindi il periodo di raccolta sarà da metà gennaio a metà luglio per poi arrivare al voto in aula intorno alla fine dell'anno prossimo. La campagna diciamo le novità rispetto alle edizioni precedenti a tutte le iniziative precedenti sono da una parte che si possono raccogliere anche le firme in forma digitale, noi ovviamente preferiamo e privilegiamo i banchetti perché permettono di parlare con le persone, di costruire una sorta di campagna culturale, di alfabetizzazione di massa delle persone sui contenuti della campagna stessa, ma ovviamente il fatto di poter anche firmare in forma digitale consente di raggiungere più persone e quindi di favorire un esito positivo del numero di firme raccolte. L'altro elemento di novità rispetto alle iniziative precedenti è che è cambiato il regolamento del Senato per cui mentre fino ad ora venivano presentate leggi di iniziativa popolare che poi evaporavano o si disperdevano dentro gli armadi polverosi di Montecittorio o del Senato è cambiato il regolamento del Senato e l'articolo 74 prevede che le leggi di iniziativa popolare regolarmente presentate con le firme adeguate raccolte debbano arrivare al voto dell'Aula non oltre 90 giorni dalla loro presentazione. Ovviamente questo non garantisce sull'esito positivo di questa votazione ma quantomeno consente che un'iniziativa dal basso promossa dai cittadini, dalle reti sociali, dalle organizzazioni di movimento eccetera possa arrivare all'Aula parlamentare e quindi in qualche modo costringere la politica a discuterne, a confrontarsi e come speriamo anche ad approvare delle leggi che invertirebbero completamente la rotta. Alla campagna stanno aderendo moltissime reti e associazioni sia organizzate su base nazionale e sia organizzate su base territoriale. Noi come campagna ci rivolgiamo a tre soggetti, da una parte alle comunità territoriali, quindi agli abitanti dei territori che devono riprendersi il comune sia nel senso di quello che a loro appartiene sia nel senso del comune come luogo della democrazia di prossimità. Ci rivolgiamo al lavoro pubblico che per decenni è stato squalificato e considerato come non essenziale, mentre noi sappiamo che una società può funzionare se ha un lavoro pubblico che fa il suo mestiere come dovrebbe e come potrebbe. E il terzo filone è legato agli amministratori. Tutti gli amministratori che ancora pensano che il proprio ruolo sia un ruolo di servizio alla comunità sono benvenuti dentro questa campagna che vuole anche ridare un ruolo anche alla funzione di amministratori locali. Oggi spesso gli amministratori locali sono quasi trasformati in una sorta di collettivo di ragionieri che devono semplicemente mettere in atto le procedure per le gare d'appalto e mettere sul mercato servizi, beni comuni, territorio eccetera. Ecco, noi pensiamo che invece gli amministratori locali possano rivendicare un loro ruolo di essere dentro una funzione di servizio alle comunità territoriali e di costruzione della vera democrazia di prossimità. Quindi invitiamo tutti e tutti a entrare dentro questo processo, questo percorso della campagna riprendiamoci il comune perché noi crediamo che le grandi sfide del nostro tempo richiedano cambiamenti radicali e questi cambiamenti radicali sono possibili se cominciamo a intervenire sui nodi sistemici che oggi impediscono ai comuni di esercitare le proprie funzioni e alle comunità territoriali di poter rivendicare i propri diritti.